Siamo al 28 gennaio, mancano tre giorni alla fine, io non ho sentito niente, per me sono solo speculazioni. Peccato che Roberto Mancini non sia qui, lui ne saprebbe certamente di più, ma per quanto mi riguarda Balotelli resterà un calciatore del Manchester City. Io ne so quanto vuoi, posso solo dire che per me sono solo speculazioni.